Ebbene ragazzi bentornati nel mio salone, siamo qui perché oggi parliamo di una lavapavimenti è la Osotec H200 Lite ed è un prodotto light, economico, anzi in basso trovate il link con un coupon che ve la farà acquistare ad un prezzo molto molto vantaggioso che però risolve uno dei più grandi limiti della categoria che neanche brand come Tineco, Dreamy, insomma brand più blasonati del settore con prodotti molto più costosi sono riusciti a risolvere la spazzola si può piegare fino a 180 gradi e questa è una grande comodità se poi si pensa che ha dei contenitori grandi il giusto che ha un motore potente il giusto che io non ho voce, non so se me ne rendete conto beh insomma incomincia a diventare un prodottino molto interessante pesante circa 5 kg, l'Osotec H200 Lite non è di certo un prodotto compatto ma non è neppure tra le lavasciuga più ingombranti e pesanti che abbiamo provato le usoline semplici e la giusta altezza del manico la rendono molto comodo da utilizzare evitando che ci si stanchi le braccia e poi data la sua natura utilizza due contenitori per l'acqua uno per l'acqua sporca e uno per l'acqua pulita il primo è posto nella parte posteriore mentre il secondo è posto nella parte anteriore le dimensioni dei contenitori sono nella media anzi diciamo leggermente più alte della media parliamo di 640 ml per quello dell'acqua pulita e 750 ml per quello dell'acqua sporca il che tende a rendere ancora più maneggevole il dispositivo in fase di pulizia vero è però che la dimensione dei contenitori influisce molto sull'esperienza di utilizzo e da questo punto di vista diciamo che non è il modello più prestante in circolazione però sicuramente uno dei migliori nella sua fascia di prezzo posteriormente poi ragazzi nella parte alta del retro di questo lavasciuga è stata inserita una piccola rotellina vedete ma che serve sta rotellina? è una rotellina molto intelligente che servirà quando utilizzerete questa lavasciuga con la struttura piegata a 180 gradi e sì perché come vi avevo detto una delle sue peculiarità è proprio il fatto che la spazzola e la struttura sono collegate in modo tale da permetterne l'inclinazione praticamente totale questo cosa vuol dire? Vuol dire che potrete passare l'aspirapolvere sotto i mobili oppure in tutti quei luoghi un par gusti in cui gli altri modelli insomma non ci vanno verrà però che la spazzola è comunque molto spessa la struttura è anche piuttosto spessa anche perché comunque al tramotore c'è anche i contenitori dell'acqua quindi diciamo non è che lo potrete utilizzare sotto i mobili quelli lì più bassi però nella stragrande maggioranza dei casi questa possibilità è veramente un game changer super realmente è stato inserito un display LED con il quale si potranno tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria che però non è touch ma è posizionato bene ed è molto chiaro da comprendere ad ogni modo una delle principali differenze con la versione non light di questo modello è la spazzola anteriore chi conosce il brand sa che il modello top di gamma cioè la H200 aveva una spazzola con due rulli rotanti questa invece ne ha solo una per fortuna però la spazzola di questo lavapavimenti una riesce a pulire vicino i bordi con molta più precisione perché lo spessore che distanzia la spazzola dal muro è di 6 mm mentre dall'altro lato è di 11 mm quindi è molto semplice pulire anche lungo i battiscopi per esempio infine rispetto al modello non light l'Ossotec H200 light perde anche quei comodissimi led che sono stati posizionati anteriormente alla spazzola che sono comodi per vedere un pochino meglio lo sporco a terra per pulire un zone un pochino più bue fatto sta che comunque stiamo parlando di un prodotto economico e quindi ci sta che tutte queste piccole chicche insomma siano destinate al modello più costoso per utilizzare l'Ossotec H200 light non si dovrà far altro che riempire il contenitore di acqua pulita inserire magari anche un tappa del detergente che esce nella confezione impugnare il manico, premere il tasto e null'altro poi farà tutto il dispositivo può funzionare in tre modalità quella standard, quella turbo e quella di aspirazione e non è presente alcun sensore in grado di rilevare lo sporco quindi diciamo non si autoregola non capisce quando il pavimento è sporco e quando è il caso di aumentare la potenza d'aspirazione e distribuire più acqua però di nuovo ragazzi stiamo parlando di un prodotto economico che per quanto costa da veramente tanto e vengo subito al suono considerando il prezzo di vendita la pulizia garantita da questo Ossotec H200 light è molto buona il motore è un 160 watt in grado di garantire 12500 kPa non è potentissimo quindi è comunque in grado di rimuovere tutti i tipi di sporco anche quello ostinato certo magari con le macchie più persistenti bisognerà fare qualche passata in più e personalmente io trovo le lavasciugo un'ottima soluzione soprattutto per chi ha i cani e i gatti insomma per chi ha animali domestici perché visto che utilizzano l'acqua voi andrete a passare questa scopa sul pavimento aspirerà, leverà le macchie e soprattutto tirerà via i peli la cosa comoda però è che proprio perché c'è l'acqua per pulirla non dovete fare niente dovete solo svuotare il contenitore dell'acqua quindi evitate tutti quei problemi che ci sono soprattutto se avete cani che perdono molti peli per esempio negli aspirapolveri ciclonici quando ci sono peli, quando ci sono capelli svuotare il secchio non è mai molto semplice perché poi si aggrovigliano eccetera con l'acqua invece il problema è totalmente risolto se proprio dovessi trovare un piccolo difettuccio a questo modello è che una volta che si passa sul pavimento la superficie non rimane perfettamente asciutta rimane una piccola patina un po' come succede con i robot aspirapolveri soprattutto quelli con i nuovi mop che ruotano rimane una piccola patina che si asciuga molto velocemente però diciamo che non è che poi il risultato sarà super asciutto al primo passaggio poco male perché questo bagnato così si asciuga veramente in pochi secondi ed è ovviamente più veloce nell'asciugatura rispetto a quanto per esempio succede quando si utilizza un mocio tradizionale va detto però che in quanto a maneggevolezza è praticamente la prima della classe questo movimento si può utilizzare senza alcun problema anche per periodi prolungati ha delle ruote che trainano leggermente lungo il senso di pulizia e dato che non ha un doppio rullo nella spazzola risulta più maneggevole anche della versione diciamo più pompata del brand e poi una volta terminata la pulizia c'è la solita autopulizia cosa vuol dire? vuol dire che posizionato l'Osotec sulla sua base di ricarica base di ricarica che tra l'altro è anche più compatta rispetto alle altre basterà premere un tasto e il sistema andrà a pulire non solo la spazzola ma anche tutto il circuito d'aspirazione e lo farà con l'acqua ovviamente però dato che si tratta di un modello economico una volta che è terminata l'autopulizia non si asciugherà il rullo insomma è un'autopulizia di tipo tradizionale la cosa molto importante però è che al termine dell'autopulizia voi svuotiate i serbatoi dell'acqua perché quando c'è acqua anche uno o due giorni incomincia a puzzare e quindi insomma è un pochino fastidioso buona l'autonomia della batteria che diciamo è nella media con un'unica carica utilizzando una modalità standard si potrà arrivare a circa 30 minuti di utilizzo quando si utilizza la modalità turbo si supera di pochi 15 minuti insomma sono performance che permetteranno senza problemi la pulizia di un appartamento di 70-80 metri quadrati la ricarica invece è un pochino lentina dallo 0 a 100 potrebbero volerci circa 4 ore il prezzo di vendita della Osotek H200 Lite è di 399,99€ su Amazon ma mi raccomando in basso ragazzi trovate tutti i link necessari per acquistare il prodotto anche in sconto perché attualmente su Amazon c'è uno sconto di 130€ che fa scendere il prezzo a 269€ e a queste cifre ragazzi la cosa diventa molto molto interessante perché i serbatoi sono capienti il motore è potente, il giusto e poi ragazzi c'è questa spazzola che si può piegare a 180 gradi e questa è veramente una cosa comodissima certo, forse per contenere un pochino i prezzi il brand diciamo ha avuto un pochino le braccine corte nella dotazione di accessori nella confezione perché non esce un filtro EPA non esce una spazzola sostitutiva no, un rullo sostitutivo però ragazzi in quanto al rapporto qualità prezzo qui direi che hanno fatto veramente un ottimo lavoro e questo è quanto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti spero che nel prossimo video mi torni la voce o spero di non perderla a breve probabilmente sì io sono Del Regaliendo e ci vediamo al prossimo video su GIZ e ci vediamo al prossimo video su GIZ